È una piccola squadra? No, è una squadra importante, una squadra bergamasca. Ieri ha fatto una grande cosa. Vede, cuore e anima valgono più tante volte di soldi, potere. Ieri la Ternana ha dimostrato nel mondo del calcio che spesso il cuore batte la potenza. Ricordiamoci che in Afghanistan gli afghani batterono i russi, in Vietnam i vietnamiti batterono gli americani. E ieri è successa la stessa identica cosa. Oltretutto con una squadra che aveva vinto troppo, perché delle volte vincere troppo fa anche male. E quindi il Bayern era frastornato, perché è una squadra che ha sempre vinto da un anno e che ieri ha avuto una giornataccia. Però grande Ternana, grande tutti. Scusate, sono gemellati i nostri tifosi. Quindi grandissima Atalanta, bellissima, un bel momento d'Italia. Grazie.